... Parti stasera? Sì, sono a mille chilometri. Ma non hai paura? Cosa vuoi dire? Secondo te perché l'ho conosciuto in chat, non mi devo rifidare. Sei grande abbastanza, spero sia la volta buona. Va bene, ci vediamo a mio rientro allora. Ma cosa vuoi? Ma smetti, ma non lascia stare. Cos'è c'è? Eh sì, sono già in strada. No, sono già per la strada. Non potresti tornare indietro, sono caduta dalle scale. Ti prego, vieni subito. Ma non posso? Giù? Giovanna? Ti prego, ti scongiuro. Sì, lo so. Giovanna? Giovanna? Vieni, 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 al più presto. Eh, smettila, adesso mi hai stufato. Hola. Pronto, ma chi sei? Sì, sì. Giovanna? Pronto? Oh, mi sono sbagliata di numero. Adesso mi hai veramente rotto. Ciao. Ah. Gli tanti. Adesso mi hai stufato. Oh. Adesso si è molto. Adesso. 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 Grazie a tutti